Ciao a tutti! Oggi prepareremo il liquore panno e fragola. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 10 minuti più un'ora per il raffreddamento. Gli ingredienti sono alcol puro, fragole, zucchero, panna e latte. Diamo il via alla ricetta. Andiamo a mettere nel boccale le fragole fresche e lo zucchero. Chiudiamo. 10 secondi. Velocità 7. Uniamo adesso il latte, la panna e andiamo a cuocere. Per 7 minuti. 90 gradi. Velocità 2. Adesso lasciamo raffreddare per un'oretta circa con il cestello posizionato. Bene, adesso aggiungiamo l'alcol e amalgamiamo per 30 secondi a velocità 3. il liquore è pronto. Andiamo a versarlo in una bottiglia di vetro. Il liquore va conservato in freezer e servito a ghiacciato. Il liquore panno e fragola. Grazie e alla prossima ricetta!